Ciao a tutti, finalmente una puntata dei tre dischi adatti per. Visto che molti miei followers in questo... da poco, cioè da un mesetto penso, no un po' di meno, dai poretti, hanno iniziato la scuola, ho pensato di consigliare tre album per affrontare al meglio la scuola. Ad esempio quando si svegliano al mattino, quando vi svegliate al mattino, vi state preparando, lavate i denti, fate colazione, pensate su un bel disco, oppure sull'autobus, sul treno, in macchina, perché guida già, e questi tre dischi sono fatti per voi. Ho pensato soprattutto a media liceo, ma sono belli per tutti, anche per gli universitari, anche perché è in pensione, per tutti. Comunque sono i miei tre dischi adatti per la scuola. E come al solito, titoli, artisti e link per ascoltarli sono nell'info box, e sembro un ritardato che continuo a far così. Invece no, sono nell'info box. Ecco qua, iniziamo subito. Allora, io ho cercato di carpire l'essenza della Teenage Angst, quindi comunque dei dischi a loro modo orecchiabili, ma che fossero anche un minimo rabbiosi, che potessero esprimere in musica il disagio di svegliarsi alle sette del mattino e affrontare sei ore, di cui due di matematica e due di fisica, per dire. E allora sei di... Almeno io odiavo le materie scientifiche quando andavo al liceo, non so voi, magari siete dei fan, dei calcoli, diciamo. Comunque avrete sicuramente una materia che non apprezzate. E quindi sono tre dischi semplici da ascoltare, ma allo stesso tempo belli, incattiviti. Il primo album che vi consiglio è Dirty, dei Sonic Youth. Sonic Youth sono uno dei miei gruppi preferiti. Fanno noise rock, quindi rock legato a dissonanze, feedback. Sono belli agguerriti, dissonanti, distorti. Ma diciamo che Dirty, pur essendo un discone tra i loro migliori, è forse quello più accessibile per iniziare. Per quanto ad esempio io preferisca di sicuro Daydream Nation o Confusionist Sex o ancora Goo, Sister. Hanno fatto sicuramente album migliori di questo. Però ci sta, lo vedo bene Dirty per una passeggiata da casa verso scuola, ecco diciamo. Il secondo disco invece è già un po' più frizzantino, ma sempre incattivito. Ed è Night Time, My Time di Sky Ferreira. Sky Ferreira è una modella, occasionalmente anche attrice, che si è lanciata nel mondo della musica e ha intrapreso una carriera che a me piace molto. Perché comunque scrive delle canzoni, perché mi pare che sia anche contautrice, scrive delle canzoni che sono sicuramente pop, ma influenzate dal rock noise degli anni 90. Occasionalmente anche, soprattutto per quanto riguarda le ballad più oscure, tipo la title track Night Time, My Time, si affida anche a delle sonorità quasi inclini al tripop o al dream pop, se vogliamo. Mentre ci sono dei pezzi che proprio spaccano, tipo Boys, You're Not The One. E sicuramente vi metterà la carica mentre bevete il vostro caffè latte via diretti, correndo, senza alcun disagio interiore, o meglio, quellissi ci sono sempre, però un po' più alleggeriti, diciamo. Il terzo disco invece è un must per gli adolescenti tormentati, infatti non sapevo se metterlo o no, perché questa rubrica serve per farvi conoscere musica nuova e non musica già nota, però andava messo, perché vanno messi per il periodo liceale, soprattutto il placebo, con il loro album più bello, secondo me, che è Without You I'm Nothing. Molto rock, ma allo stesso tempo molto scuro, introspettivo, ci sono dei pezzi molto più lenti, ci sono i pezzi più belli della carriera della band, tipo la title track Without You I'm Nothing, che secondo me è il pezzo più bello che abbiano mai registrato, ma anche Pure Morning, Every Me, Every You, o Every You, Every Me. Me la dimentico sempre, la progressione, comunque ci siamo capiti. Spettacolare, cioè a suo modo spettacolare e fondamentale nella vita di ogni adolescente trasgri che si rispetti, e poi io volevo basare questo video della scuola su sonorità anni 90, e l'unico disco non anni 90, che è Night Time My Time, in realtà rimanda agli anni 90, un'estetica grangia, un'estetica grezza, e quindi niente, dai. Fatemi sapere se ascolterete questi dischi andando a scuola, se mi hanno dato la carica necessaria per affrontare le lezioni, o i compiti, quel che l'è, e in caso ditemi cosa ascoltate di solito per andare a scuola. Io vi saluto e alla prossima. Ciao ciao.